Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua su FIFA 22 con il nostro Barcellona Allora, siamo nel rush finale della stagione, andremo oggi a concludere sicuramente marzo e a iniziare aprile in cui tra l'altro ci sarà lo scontro diretto con il Real Madrid, che non è cosa da poco, anzi sarà veramente complicato Allora, con Raio Valecano abbiamo l'Ellap che è stanco, mettiamo anche Cuevas, ammazza Facciamo un po' di turnover, doveroso, va bene così Purtroppo non c'è niente da dire, ci tocca fare di necessità virtù e noi ci proveremo a fare questa cosa Anche Serrano è stanco, ma se io scusate, spostassi qua Serrano e mettessi qua con Sesao, non sarebbe una scelta un pochino più logica? Sì, sì, perché Leon non è che mi faccia, come dire, non è che mi faccia impazzire È un buon giocatore, ma non è ancora pronto, ahimè Tra l'altro, visto che questi giocano alle 11 di mattina, e perché è buio? Vabbè, domande che non... ma è buio almeno? A me sembra luce dei riflettori Non capisco O forse 11 di sera Magari 11 di sera Sarebbe più logico Vabbè, Calabria Però in Trio dovrebbe essere scritto 23 Non 11 e basta Vabbè, non lo so Oh, ti ho visto Vai Serrano Sì! Sì, si parte forte Serrano Che straccia le mani al portiere Tra l'altro, Manco è nel suo ruolo Ma va bene così Lui prende e porta a casa un gol Dopo 5 minuti Beh Beh La partenza non mi è dispiaciuta La partenza non mi è dispiaciuta Seppure con le riserve Dobbiamo stravincere oggi Perché c'è il Real che ci sta seguendo Un Real che Mette paura perché Non ne sta perdendo una da tipo Tantissimo tempo E bisognerà Fare un mezzo miracolo Per portarsi a casa questa Questa liga Questo campionato Servirà veramente un miracolo Cosmico Ma vabbè Dettagli Serrano Eh no però Serrano Serrano Ho capito che ho detto un ruolo Però I passaggi Li si fa un po' tutti No? Nel calcio professionistico Non è che devi fare una cosa che Non sai fare Insomma Pinto Bella la palla Però fuori gioco Vabbè che Vabbè che il cross è inguardabile Quindi Non ci vogliamo neanche il problema Bravissimo Con calma Con calma Tiago Tiago Ma come? Mi sembrava dentro Ve lo giuro Io L'ho vista dentro questa palla Infatti ero già pronta a esultare ma E a dire Che bel gol Invece Invece nada Vai Serrano Vai Serrano Vai Serrano Vabbè Serrano Un uomo partita Cioè Doppietta in 16 minuti Diciamo che è stata una scelta Azzeccata Secondo me Preferire Serrano A Raul In In quel ruolo Leggermente Una scelta Afferrata Bene Bene Benissimo Pinto Pinto No Pinto Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo Pinto Pinto Mannaggia tutto Mannaggia Mannaggia tutto Mannaggia tutto Veramente Abnorme Abnorme Vabbè Palla fuori Calma Calma E con 2 a 0 Si è messi bene Io andrei a fare un bel 4 a 0 oggi Per Per Sparmiare tempo Su altre partite No eh Silas Non è d'accordo Dice mister Perché 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 Non so Sparmiare tempo Non si può perdere tempo Hai ragione Non è che te Vai Silas No eh Non È dura È dura È dura Oggi Oggi è dura Oggi è dura Fare 4 a 0 È veramente dura Ma come stanno giocando Questi Perché Giocavano così Oh Non si riesce Micca Calma No Mamma mia Che intervento Di Calderon Che intervento Grandioso Grandioso Calabria Calabria Ancora Calabria Vabbè ci prova Mano Mano Mi piace Mi piace Mi piace assai Questa mano Silas Ti prego Collabora Perché non c'ho voglia Collabora Collabora Silas Collabora 3 a 0 3 a 0 Bene Bene Direi che Mi piace Cosa fa Esulti Non esulti Esulta Era ora Dopo 3 ore Che cliccavo X Per esultare Non Non Ce l'ha fatta Si è deciso E che in realtà Lui non voleva far gol Lui in realtà C'era giocato di 2 a 0 Ne calcio scommesse E ha dovuto Andare contro Alla La sua scommessa Ci è rimasto Molto male Attenzione Perché è pericoloso Bravo Paredes Con SESAO Benissimo Così Tiago Oh Bella palla Per Serrano Serrano scatta Però è lento Ah no Pinto Tiago Ancora pinto Mano Mano Ma quanto mi piace Ma quanto mi piace Questa cosa Bravi ragazzi Gli altri però SESA Ancora lui Sul dischetto Per regalare Un 4 a 0 Che non arriva Che non arriva Questa volta Ho sbagliato Volevo fare il pallonetto Mannaggia Ma invece Ho detto Vabbè Perché farlo Avevo parola Che me lo parasse No Ma cosa ha preso Ma cosa ha preso Riproviamo Serrano Per Silas Vabbè Rega Però Però ditelo Allora Ditelo Che non vogliamo Segnare 4 a 0 Calderona Ancora Ma il portiere Non ne vuole sapere Tiago Per Calderon E Stupinian Oh mi ha trattenuto No Ma perché Ma perché Fischi Ero lì pronto Compinto A concludere in porta Tu fischi Maledetto Maledetto Meriteremo Il 4 a 0 Lo meriteremo Ma purtroppo Dovremmo Dovremmo ancora sudare Per portarcela A casa Bravo Silas Pinto Vai Vai con Sesau Vai con Sesau Per Serrano È troppo Sul portiere Amico mio È Su Troppo Prevedibile Sto Bravissimi Serrano Eh vabbè Però rega Non si riesce Non si riesce Non si riesce Bravo Calabria Dai 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 Tiago Polento È un po' Lento Tiago Ah ci ho provato Dovevo calciare un po' Prima Ho perso il tempo Ai me Tiago Per Serrano Eh vabbè Vai Tiago Silas Vabbè Ma rega Niente 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 Fallo Fallo Clamoroso Di Silas 3 a 0 Ancora Non si riesce A fare 4 a 0 È una corsa Contro Contro Il tempo Questa È diventata Dai che sbaglia Dai che sbaglia Dai che sbaglia Dai che sbaglia Ha sbagliato Eh vabbè Però Siamo dei polli Siamo Siamo dei polli Che non riusciamo a sfruttare Le occasioni Nitide Che ci danno Gli avversari Aia Calma Eh va Uh Rischio in me Eh vabbè Però raga Se la passiamo È normale Poi eh Vabbè Giusto così Meritato 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 Non l'abbiamo chiusa Abbiamo regalato E questo è il risultato Allora Eh Simeone Anzi Escobar Leon Così riposa Serrano E poi ci buttano dentro Un Sanchez Selvatico Vai Sanchez Facci vedere Cosa sai fare Tanto alla fine Andò così Andò così È incredibile Come avremmo Meritato il 4-0 Ad occhi chiusi Ma non siamo riusciti A farlo E ci tocca Combattere Fino alla fine È incredibile È veramente incredibile Leon Escobar Niente Nemmeno Escobar Riesce A A A fare gol Ancora Escobar Ma che cazzarola è Ma Ma di mortacci Vabbè Leon E ci butti Dentro sta palla E ci butti Dentro sta palla E vabbè Allora Vabbè Non entra Non entra Ho capito Ho capito Pure loro Vabbè Allora dopo questa Io veramente Non so più cosa dire Bravo Calabria Eh Sanchez però È una cosa Horror Anche loro Non sono da meno Bella la palla Di Escobar Con Sesau Per Leon Che gliela passa Gliela passa Io non ci credo Gliela passata Allora Ma cosa fai Non era per lui Oh Non so Stiamo facendo La challenge A chi è più scarso Non capisco Cosa sta accadendo Cioè Boh Vai a capire La challenge Su chi è più scarso È una cosa mai vista Una pochezza Disumana Ha pinto Devi andare Niente Cioè Escobar Fortuna che lui si muove Escobar Eeeh Controtempo Può avvicinarsi No vabbè Non ci credo Non ci credo Quanti gol mangiati Tipo 7-8 Cioè È veramente incredibile Sta squadra spreca Spreca troppo Dai Pinto Escobar Eh vabbè Escobar Cosa fa Eh però Niente Aveva fatto una cosa Magnifica Aveva fatto una cosa Veramente magnifica Qui eh Escobar Sta facendo Un miracolo No Collins No Ma perché Ma perché Eeeh Shvolov Contro Padiglia Ma Shvolov c'è Ma Shvolov c'è Oh anch'io sbaglio il rigore Anche te lo sbagli Amico mio Eh Su Già sei fortunato Che non sei 5-1 6-1 Mannaggia tutto Leon Che dorme Dorme come la principessa beata Benissimo così E Stupinian Ma c'è Calabria Bravissimo qui Ha recuperato un buon pallone Vai Consessau È stanco Consessau È stanco Pinto Bella la palla per Escobar 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 4-1 Eh lui è un giocatore Che deve entrare Un po' come Simeone A partita in corso Perché da titolare Fa poco e niente Ma se entra Da fresco Ti fa Ti fa la differenza Ma Sono quei giocatori Un po' così no Che devono ancora crescere Però lo vedo Come subentrato 4-1 Giusto così Abbiamo dominato La partita Il lungo e il largo Avremo meritato Il doppio dei gol Ma dettagli Andiamo avanti Andiamo avanti E il real È a meno 3 Cioè sì A più 3 Volevo dire Scusate A più 3 A più 3 Ok Campos È di stanco È di stanco È di stanco Campos Amico mio È di stanco Io non so come dirtelo In giapponese Lo vuoi Studierò per dirtelo in giapponese Gustavo Ray No Non lo vendo sicuramente ora Sarebbe stupido In questo momento Comunque Carlos Pereira No Ok Abbiamo L'Europa League Ottavi di finale Di ritorno Di ritorno All'andata Fu 3-0 Basterebbe un gol Per fare 4-0 E poterla anche simulare Tranquillamente Quindi Sì ma Poi 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 Mettiamo McKennie E mettiamo Busio Amato Sono tutti stanchi Bright E Sergente In punk Mi porto Mickey Mi porto in punk Sanchez Ray Pereira E Almeida Per forza Abbiamo una squadra un po' corta In questo momento Per causa stanchezza Causa assenza E Comunque Si va adottare Per questi quarti di finale Ipotetici Che sarebbe Tanta roba Europa League Che io voglio vincere Personalmente Sarebbe Una bella Gioia Farsi un campionato Con Supercoppa Coppa Europa League E il campionato Sarebbe a dir poco Trionfale A dir poco Ma dai la Era buona Se Busio Avesse un attimo Acceso il cervello In quel frangente Quella palla Era buonissima Ma lui Non l'ha fatto Per nostra sfortuna No Era passato Era passato Era passato Era passato Per un attimo No No Non ci credo Bravo Sergente Sì ma No Meccani Non ci arriva Meccani Non ci arriva Su questa Ribattuta Sapiamo Che lui Di testa È molto bravo Bravo Bright Bell'intervento Devo dire Mi ha sorpreso Mi ha impressionato Amato 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 Vabbè però Amato Un po' di piede Duro Bisogna mettercelo lì Vai Dell'up Dell'up Ma cosa ha fatto Sul serio Ma sul serio Cosa ha fatto Includa anche il naso Da quanto era bello Il gol Quella Ottimo Assis Dell'up Gli ha spaccata Allora Bene ragazzi Possiamo andare a simulare Tranquillamente Metto Simeone Metto Leon Mettiamo Portiamoci un po' Di giocatori Perché se no qua Io rischio di far Stancare tutti Almeida E basta E andiamo al risultato 2-0 Comunque Ma dell'up Non me l'ha cambiato Io i cambi li ho fatti Ma perché Non me l'ha salvati Vabbè Io non ho parole Io non ho parole Io non ho parole Allora Abbiamo il campionato Partita spostata Ciato dei soldi Sì Il Leeds Ai quarti di finale D'Europa League Squadra non da sottovalutare Cosa ha fatto Garzia intanto Domanda Non può già essere arrivato Al massimo Su E invece è già lì Ormai Mamma mia Che brutta Che brutta Salita Allora Silas Sono tutti riposati Benissimo Paredes Campos E poi Monzun Mi porto in panca Escobar Rey E ci portiamo Sanchez E per il resto Direi che ci siamo Squadra Interessante Levante C'è Chomini Comunque Timber Danfries Perin Una bella squadra Oh Non so Scarsi Cambia maglia Se no io non ci capisco Una fava Il giallo va benissimo E andiamo a giocarci Questa partita Molto importante Sperando che il Real Possa Fallire Miseramente La vittoria Vedremo chi avrà la meglio Oggi Tra la migliore Il Levante È la peggior difesa No È la migliore difesa Il Levante Mi sa Vabbè Con Perini in porta Posso comprendere Bel portiere Perini Non so se in questo multiverso Abbia un buon overhaul Ma Mi piace da matti Lo sapete Me l'avevo già detto La scorsa volta Ah mannaggia Dobbiamo partire forte Dobbiamo partire molto forte Bravi Dai Bravo Pinto Silas No Perin Cosa ha preso Perin Calcio d'angolo Quevas Per Pinto Calma Calma Bravo Campos Serrano 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 No Sarebbe stato clamoroso Questo qual di Serrano Ma clamoroso vero Ma clamoroso vero Bravissimo Tiago Ancora Quevas Serrano fallo Ma fallo Ma Ma ha toccato Ma ha toccato malissimo Tra l'altro E non vorrei di ma Boh Vabbè Pinto Ci prova No vabbè No vabbè La traversa così È amarissima È amarissima È amarissima È veramente amarissima La traversa in questo modo No 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 Mamma mia Mamma mia Che si è sbagliato il levante Assurdo Era un gol fatto La nostra difesa si era aperta Incredibilmente Vai Quevas Guadagna metri La mette in area Verso il compagno Sì Oh niente Difesa del levante Che È anche molto fortunata Oltre a Forte Vabbè Eh Mannaggia per in Per quando ti possa ma Oggi ti devo odiare Mi sa eh Questo vado lo sospetto Mi sa che oggi ti devo odiare E che non vorrei farlo ma Non dipende da me È colpa tua Bravissimo Calabria Vai Pinto Serrano 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 Sì 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 È entrata sta palla È entrata Non ci credo Ce l'ha fatta Sì Sì ma No è Silas Che sì ma Buonanotte Oh No perché mo' veramente Per in Stava veramente parando Anche le mosche Mi sembrava un po' eccessivo Ed ecco dunque Arrivato il primo gol dell'incontro Bravo Stupinian Dai Tiago Quevas Tiago Tiago Bella palla Ma porca Paredes Per Tiago Da fuori Parte lo stesso Tiago Goll allucinante Veramente Allucinante Ma cosa ha fatto Tiago Ha preso in controtempo Per in Che non se l'aspettava E che se l'aspettava Sta botta così Di Tiago Di Tiago Questa festa No Goal di Silas Che è una perla È un cioccolatino È un cioccolatino Vabbè Serrano Serrano anche lui però Ha fatto un assist Memorabile Memorabile Cioè guardiamolo Ammazza Me lo guardo meglio Me lo guardo meglio da più riavvicinato Serrano che fa un cross Delizioso 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 Perché ci sono questi Oh Cioè questa Sarà la copertina del video Così La palla che si Flette Si piega proprio Alla strapot... Ma che cazzo Ma la palla c'è tipo Come dire Tipo Olie Benji Non so come spiegarlo È bellissima Questa scena Vabbè No ma rivediamolo Vi prego La palla come Arriva Arriva Ha preso tipo Arriva Un attimo Quando la tocca Proprio c'è Guarda qua Come si contorce Ma Mannaggia Ma che Ma che ha fatto Silas Estrema potenza Stava per bucare La La Stava per bucare La palla Incredibile Incredibile Andiamo a Risultato 4 a 1 Ottimo Il real Non si sa Cosa ha fatto Ancora Ah c'è C'è il girone C'è il girone Si ho capito Però rinnovi Sto contratto Campus Non è che mo Dai E su Monzu Non ci interessa Grazie Tu rinnova Sto contratto Che poi giochi di più Dai rinnovalo Rinnovalo Su Allora Qualificazione di Campionato europeo Ancora sto Pereira Ma non ve lo do Non ve lo do Ma ci mancasse Ma te Sei matto Ma te sei matto Andiamo a simulare Sto partita Velocemente E si vince 1 a 0 Con il gol di Jack Raspadori Giacomino Raspadori Bene così Right Offerta Peccato che non sia Nel mercato estivo Se no ve lo vendevo volentieri Lo vendevo Barcellona Questa è la partita Più importante Della stagione Perché abbiamo 5 punti di distacco Potremmo andare a più 8 Più 8 E vorrebbe dire Portarsi a un bel vantaggio Con 3 partite 3 partite 6 8 Alla fine E 8 punti Su 24 Inizierebbero a essere Molto pesanti Squadra che è in grande forma Io sono in grande forma Oggi a giocare E Ragazzi Si va a far la storia Si va a far la storia Lo scontro che può dirci molto In chiave titolo Manca pochissimo Ultimi sforzi Per questo Scudetto Per questa Liga Ultimi sforzi Ragazzi Ultimi sforzi Serrano Parte subito Ancora Serrano Ah Quevas Bravo Cante Per Thiago Che aveva fatto tutto bene Caccio d'angolo Quevas C'è Dell'up di testa Si vabbè Un po' Un po' Troppo forse Leggermente troppo forte Sto Sto pallone Leggermente Per venire Dai ragazzi No no Ma i stupidian c'è Tiago Per Cuevas Cuevas Per Dell'up Però viene anticipato Purtroppo Ah mi parte Mi parte Mason Mount Mi parte Mason Mount Ma c'è Cantè Ma c'è Cantè Bravissimo Dell'up Dell'up No Dell'up Mio però Troppo egoista Qui Dell'up Troppo egoista Non farlo passà Manco fosse tu fratello Mamma mia C'è Garcia C'è Garcia Tiago Tiago vai Tiago Tiago Ah ma qui Devi partire Non devi stare dietro Tiago Tu sei velocista Rispetto a Tiago Serrano Dell'up Ha fatto una magia Ha fatto una magia Ha fatto una magia Qui Dell'up Una magia Ma che magia poi Va bene Ok 19 gol In 24 partite Bella per Dell'up Che lui Quando c'è Si fa sempre sentire Bravo Quevas Ancora Dell'up Ah lo scatto Di Serrano Però Mi l'ha anticipato Bravo Christensen Pinto Pinto Per Serrano Per prova Il cross Dai là per Ali Bravo Kanté Tiago Quevas Kanté Pinto Entra dentro Ancora pinto C'è Calabria C'è Calabria Vabbè Calabria Un po' più Un po' meno forte Calabria Ha dato una testata E sembrava che dovessi Ammazzare qualcuno È la grinta giusta Però Serrano No Non puoi darmi Falo di mano Ma non puoi Ma non puoi Non puoi Bravo Kanté Tiago Tiago Caccio d'angolo Quevas Real Veramente Stra in crisi In questo momento Della partita Pinto ci prova C'è De La Paterra C'è De La Paterra Oh si è rialzato De La Si è rialzato Niente di gravissimo Insomma Mi stavo preoccupando Sul serio Qui eh De La Paterra Se si fa male Ora È un problemino È un problemino Vabbè che abbiamo Le riserve Però È comunque Un problemino Bravo Stupinian Eroi di giornata Fuori 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 No De La Paterra Infortunato Anche no Oggi non può uscire De La Paterra Gioca anche da rotto Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Senza Non posso fare Tiago Per De La Paterra Bravo De La Paterra Vabbè raga Ma questo segna Anche quando è rotto Ma allora Il vitto del gol Il bomber di Alla spalla Alla male Alla spalla Vabbè Alla spalla Non è un problema A me siamo nei piedi Non ti preoccupare Stupinian Fantasma In questo momento Dai La Per Serrano Dove vai Serrano Do cavolo vai Tu hai fatto la finta Vabbè è andato via Comunque quest'anno Ragazzi Uomo in più Uomo in più Del centrocampo Tiago Grande qualità Mamma mia Però che gol Che gol abbiamo preso Bruttissimo Stavo dicendo Tiago Grande qualità Quest'anno In mezzo al campo Ah e anche Kanté Però due ottimi acquisti Kanté E Tiago Più Tiago Più Tiago Più indispensabile Secondo me Non l'ho mai cambiato Ma no Ma perché fischi Sono in attacco Vabbè Primo tempo Molto buono Siamo in vantaggio Stiamo meritando Alla grande Certo che Deala Sta male Però io Non posso fare A meno di due Obiettivamente Sarebbe Brutto Molto brutto Difficile Anche Fare a meno di uno Come Delap Dal momento Che ce l'hai Siamo Restando Che ha fatto gol Anche da infortunato Quindi Non è che Non mi sembra Così grave Si può segnare Vuol dire Che è in forma Lo stesso No No Calabria No Calabria Se vabbè Gol Clamoroso Però qui Ha fatto un gol Ragazzi La palla Manco si è vista Quando è partita Su Un po' Esagerato Forse Spada Che mi è Un po' calata Mi è un po' calata D'intensità Nel secondo tempo Fini il primo tempo Secondo tempo Vai Serrano Metti un cioccolino Dei tuoi No Niente Aia Eh C'ha 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 i velocisti Il Real Che soffro tantissimo Bravo Christensen Però Anche Per Thiago 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 È troppo 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 sul portiere Quevas Rigore 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 Netto 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 Ma perché Stupinian Ma c'è Delap Oh a Belli Ma Delap Contro Courto 3 a 2 Tripletta Due gol Con la Con Con la spalla rotta Che comunque Mi sembra posto Dalle esultanze Non mi sembra Che stia così male Però va bene Dai Tripletta Di Delap Giocatore Veramente Mastodontico Di questo Barcellona Ormai Ormai È ovunque Ancora Delap Ci prova Se ne fa Quattro Io Io veramente Boh Non so Non so cosa faccio È più forte Da rotto Che da Da sano No No Bravi Ragazzi C'è da soffrire In difesa Dai Bravi Intelligenti Bravo Stupinian Ma è troppo sul portiere Ma che Perché sti cross Così Così Ravvicinate al portiere No Era l'unico modo Per arrivarci Mi sa Ci ho provato Ci ho provato Sarebbe stata Un'occasione Ghiottissima Allora Delap Basta Mettiamo Simeone Poveraccio Mi muore in campo Mettiamo Leon Mettiamo Paredes Finiamola così Simeone È il tuo momento È il tuo momento Delap Ormai basta Poveraccio Perché Lo sto rompendo Di continuo Ormai morto Non respira più Ha fatto Una Partita Di grande sacrificio Delap Da infortunato Simeone Per Eh ho visto Serrano Lì libero Leon Punizione Per Simeone Mannaggia Ma c'è Christensen Pinto No No Non ci credo Simeone Era arrivato Simeone È arrivato No Simeone Dai 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 Sei fuori Fuori gioco Di un bel po' Anche Un bel po' Ahimè Tocca dirlo No Questo è Fresco Non riusciamo A tenere Loro In fase Offensiva Sono troppo Veloci Prestanti Guarda qua È stata pure La bandierina Salta Bruno Fernandez Sembra appena entrato Davanti Fresco C'è un miracolo Vai Leon Si getta in avanti Il pareggio non basta Niente De Leon Interviene E riconquista Il pallone Non è in grado No La sconfitta No eh Cioè posso accettare Un pareggio Tanto alla fine Non perdiamo niente Però la sconfitta Proprio no Io non accetto Perché sennò Riapriamo tutto il campionato Ed è Un macello Un macello Bruno Fernandez Ma esce García benissimo Pinto Con calma Paredes È fresco È comunque lento Leon Ah Interviene bene sul cross No 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 Occhio piano di partenza Oh Ho sbagliato Leon Leon Da solo Leon Rigore Ma come no Ma come no È impossibile Rigore Ma è rigore netto Ma stiamo a scherzare Questo andava in rete Questo andava dentro in porta Rega è rigore Questo era goal Questo era goal No vabbè Oh Ma cosa fischi È un altro rigore Non ci credo Io non ci credo Dimmi che non è vero Ok stavolta no Stavolta no Ok Va bene Pagliacci Pagliacci Ladri Ladri Come Chiellini Che fa You pay You pay Eh Il reale ha pagato Il reale ha pagato Va bene Io sono veramente Cinque giorni Per Dela Va bene Dai Non è un problema grave Cinque giorni Ci salta forse Il leads Vabbè Bright Accettiamo Sta offerta Che mi ha scassato Al massimo Compreremo qualcuno Prima che finisca l'anno Eh Ok Sì Dela C'è Dela C'è Ah sì Non è che Sta bene Sta bene Dela Non è utile che fai incetta Pensando che stava Che sta tutti male Perché vuoi giocare Allora Io per oggi mi fermo La prossima volta finiamo Aprile Forse il reale Non riusciamo a farlo Dipende come va con il leads In generale E poi c'è maggio E poi raga Abbiamo finito Poi c'è la Champions League In teoria Quindi ragazzi Vi saluto Vi ringrazio Vi ricordo i link In descrizione Per supportare il canale Ci becchiamo Al prossimo episodio Ciao ragazzi